L'emergenza traffico colpisce Napoli nel suo cuore. Nel ventre della città, infatti, laddove è altissima la richiesta di parcheggi, siamo ben lontani dal trovare una soluzione. E il modello può arrivare da altre città d'Italia e d'Europa, dove sono numerosissimi i parcheggi costruiti negli ultimi anni per soddisfare le esigenze degli automobilisti. I punti particolarmente colpiti ovviamente sono quelli a più elevata densità di attività sul territorio, che tipicamente sono il centro della città, perché è là che si concentrano uffici, banche, esercizi commerciali e quant'altro. Tutte le aree centrali di tutte le città d'Europa, ma in tutte le città dove sono attività insediate al centro, è evidente che il problema del traffico è elevato. A Napoli in particolare, data la sua configurazione, l'orografia del territorio, è difficile avere le strade di dimensione elevata, come capita in altri metropoli, Parigi, piuttosto che Vienna, piuttosto che altre. Quindi è ancora più sentito il traffico. Ci sono una serie di altri parcheggi che sono attualmente in fase di definizione, sempre nella zona centrale, come il parcheggio in Piazza Vittoria, un altro in Piazza Matteotti. Buona parte degli altri parcheggi riguarderanno zone più periferiche, proprio per facilitare l'interscambio. Così c'è un potenziamento del parcheggio di via Brin, per esempio, circa altri 300 posti. Una realizzazione di parcheggi nella zona di Chiaiano e del Frollone, che consentiranno di scambiare con la linea 1 della metropolitana. Un parcheggio a Bagnoli, che consentirà di scambiare con la Cumana e così altri parcheggi ancora nella zona del centro direzionale, insomma una serie di parcheggi distribuiti sul territorio cittadino. Non è importante quanti posti auto le riesce a fare, ma è dove le riesce a fare, perché se le riesce a fare 30 mila posti auto in una zona di periferia dove nessuno vuole andare, che quindi nessuno utilizzerebbe, le posti auto le dovrebbero fare là dove questi occorrono. E una delle polemiche che nel corso degli anni è tornata alla ribalta è proprio quella dei parcheggi nel centro cittadino. Questi luoghi di sosta, infatti, erano fortemente criticati, poiché erano visti come degli attrattori di traffico e quindi elementi da non prendere in considerazione per risolvere il problema della mobilità a Napoli. Il parcheggio in quanto tale, ovviamente, non è un attrattore di traffico. Nel senso che se io facessi un parcheggio nel deserto del Sahara, la gente non ci andrebbe a parcheggiare per il fatto che c'è il parcheggio. Punto. Ok. Il parcheggio si realizza invece perché ci sono molte persone che vogliono andare in quella zona utilizzando l'autovettura personale e come detto prima il parcheggio è il rovescio della medaglia, uso l'auto perché posso parcheggiare, ma voglio andare in quella zona non perché c'è il parcheggio, perché ci sono attività insediate, come dicevo prima, banche piuttosto che negozio o quant'altro, e per regarmi lì devo poter parcheggiare ma vado là per effetto dell'attività, non per effetto del parcheggio. Quindi il parcheggio è una conseguenza delle attività. Allora, insomma è sbagliato immaginalo come attrattore di traffico. Noi vogliamo che i parcheggi siano realizzati non sulle strade o sulle piazze di Napoli, ma nel sottosuolo o in silos sopraelevate, cosa che avviene in tutte le città del mondo e quindi non stiamo scoprendo l'acqua calda. Quella che è l'offerta di parcheggio, soprattutto nelle zone centrali, è consistente. Purtroppo che cosa si è verificato? Che una parte di questi garage, in realtà sono dei garage che originalmente dovevano essere destinati ai residenti negli edifici in cui questi garage si trovano. Quindi noi ci troviamo che una serie di veicoli che appunto devono essere alloggiati all'interno dei garage stessi, ci troviamo su strada.